Penso e sono sicuro che sarà la mia ultima tappa, perché sono arrivato alla squadra più titolata del mondo. Sono arrivato al top. Più del Milan non c'è nulla. C'è poi il cielo e basta. Perché allora hai detto quella frase al Milan? Perché ero convinto di rimanere lì. Cioè sopra di me c'è solo il cielo. Sopra il Milan c'è solo il cielo. Eh, dopo il cielo c'è l'Inter. Grazie.